Già diverse conclusioni, talvolta imprecisa, talvolta con la parata di Urbani che stavolta non può nulla sulla giocata meravigliosa da parte di Borruto che con l'attacco ha realizzato il gol dell'1-0. Pesaro, Alberto Nogara quindi alla prima occasione utile ci sarà il break chiamato dalla formazione della Real Arzignano, mentre intanto Titi Borruto va a realizzare il gol del raddoppio, un'altra perla assoluta del giocatore in maglia numero 10. Molto fiscale in questo caso il direttore di gara, attenzione al Pesaro che in avanti con Borruto, sterzata verso il centro del campo, finta il tiro, poi se la sposta! Sul destro! E che gol! Ancora una volta di Borruto! Tutto il palanino pizza applaude a un campione assoluto! Ancora Pablo Taborda, Salas, Borruto! Sempre lui e sempre sull'asse Salas, Titi Borruto, che gran giocata e che gran tiro del numero 10 quarto gol di Borruto!